All'infortunio di Gerenazzo, che si è fatto male al ginocchio in allenamento, livello superiore sbagliato da Spencer, Terry tocca il pallone, Spencer lo controlla, extra possesso Trieste, Barclay per Terry! Tanti minuti da lui, quest'oggi a Kocelegovic. Rimbalzo per Terry, Ruzier riparte sul mino 9, pallo in mano per Trieste, Lumberg prende Ruzier, ancora un lob! E ancora! Una leiupe sull'asse, Ruzier Terry! Va da Ruzier, si avvicina a Vildera per portare il blocco, Michi aiuta forte su Ruzier, Stumbris palleggia, consegnato ancora per Ruzier, con 9 secondi per andare al tiro, piccherò il con Vildera, taglio il backdoor di Emanuel Terry! Davis per Ruzier, Spencer vuole bloccare, Michi aiuta su Ruzier che chiude il palleggio, cerca uno scarico, lo trova per Corey Davis che attacca Lumberg, lo bate, va al ferro, e alza il lob per Emanuel Terry! Ancora un arcobaleno, ancora una leiupe! Ghiglia in lunetta, qui si rivede il lob di Davis che manda... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!